Peroni UK, House of Veroni, un'idea inglese di MC Satchik, l'agenzia di comunicazione che farà questa House of Veroni nella palazzina Liberty che verrà completamente rivoluzionata da quella che è oggi, perché oggi è un centro medico, quindi dopo domani la palazzina sarà libera e all'interno andranno le opere d'arte di grandi artisti italiani contemporanei Mordante, Mandinelli, Alessi, Cavana Rantasme e alcuni altri, ci sarà il bar di Stratagia di Calabrese che è questo bar molto importante italiano che è a Londra ormai da anni e ci sarà la parte food curata e gestita da noi con una cucina vista di Arclinia scelta da noi, l'acqua sarà sempre allegrino, i piatti saranno i nostri piatti fatti a Londra, l'idea è quella di fare una cucina molto semplice, fruibile a tutti, quindi l'idea è quella un pochettino del tapas bar spagnolo, però fatto con la cucina italiana sarà la parmigiana rivista e corretta, ci sarà il panino come una volta, ci sarà un hamburger, perché l'hamburger pur non essendo un piatto italiano, non è un piatto globale, quindi fatto però con la carne piemontese, quindi ci sarà un hamburger particolare, ci sarà il risotto, perché purtroppo purtroppo per fortuna il ricetto è il nostro brand, quindi ci sarà un risotto servito nella lattina, ci saranno due dolci, uno si chiamerà BBC, quindi banana, birra e cioccolato, ci sarà la panna cotta con la riduzione di birra, quindi l'evento Peroni ci darà prima di tutto grande visibilità a noi come cristiane mangia, come costaro di brossi, però allo stesso tempo ridarà lustro all'Italia, ma anche all'estero, perché il progetto Peroni è anche quello di riportare la cucina italiana, la vera cucina italiana a tutti i nostri italiani.